Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Come state? Spero bene. Oggi andremo a vedere 7 metodi per poter veramente guadagnare online e soprattutto vi darò alla fine un piccolo extra, più che altro ovviamente come ben sapete il mio punto di vista in merito a questa questione. Bene, senza perderci troppo in chiacchiere, vi chiedo di mettere mi piace al video per potermi aiutare con l'algoritmo, di iscrivervi al canale e di iscrivervi un commento al riguardo se qualcosa già la conoscevate oppure non lo conoscevate oppure se avete altri suggerimenti per le persone che guarderanno questo video. Bene, partiamo subito. Primo metodo per poter guadagnare effettivamente online è quello, diciamo, classico cioè quello di vendere le nostre cose usate. Bene, abbiamo la casa molto spesso piena di cose che non utilizziamo, oggetti che non usiamo cerchiamo ovviamente di venderli online su siti come subito.it o ebay. Occhio, una piccola avvertenza, se siete minorenni questa fase, nel senso dovete ovviamente avere il consenso dei vostri genitori, non potete prendere oggetti a caso per la casa e venderli. Mi raccomando, questa cosa qua è molto importante e soprattutto non vendete cose che in realtà utilizzate per poter fare 10€ per fare l'aperitivo o per fare 10€ per niente. Vendete essenzialmente solo le cose che veramente non usate. Anche lì ovviamente dovrete fare una piccola selezione perché ci sono cose che vengono vendute e cose che non vengono vendute. Ad esempio io su subito.it, cioè sono un motociclista fondamentalmente, non vado più in moto, avevo però giacca, casca e guanti da moto, li ho venduti. Mi sono basato sul prezzo reale in questo momento degli oggetti che io posseggo, quindi il prezzo al nuovo della giacca da moto che io avevo e ho fatto ovviamente una stima di quanto, a seconda delle condizioni effettive della mia giacca da moto, ho fatto una stima e l'ho venduta esattamente a 50€ in meno rispetto a quella che è un nuovo. Secondo metodo per poter guadagnare online, quello che vi vado da segnalare ed è anche un'applicazione che stanno veramente sponsorizzando in tanti in questo momento, soprattutto si vede una tantissima pubblicità sulla televisione, è Vinted. Vinted è un'app per vendere i propri vestiti, questo qua diciamo è più o meno riferito forse un pochettino di più alle ragazze perché sono quelle fondamentalmente che hanno effettivamente l'armadio pieno, zeppo di vestiti che non mettono, pensatevi che vi siano utili e che invece metterete invece non mettete più. Ovviamente diciamo questa applicazione, la cosa buona di questa applicazione è che non ci sono diciamo commissionato per pagare, quindi voi utilizzate l'app per poter vendere appunto i vostri vestiti, il vostro guadagno sarà pulito. Ovviamente anche qui una raccomandazione, non vendete vestiti che siano stracci o non vendete cose che siano macchiate, cose che siano stinte, cose che siano rovinate, cioè ovviamente cercate di vendere l'usato, quello che fondamentalmente anche voi stesse rimettereste e una cosa importantissima, lavatelo. Prima di venderlo vi prego lavatelo perché io comprare una cosa che poi dopo arriva a casa e puzza non è possibile, lavatelo. Terzo metodo per poter guadagnare su internet andiamo un pochettino più nello specifico e andiamo ad utilizzare l'applicazione, il sito anche, che si chiama Fiverr. Su Fiverr ci sono migliaia di opportunità, se non conoscete Fiverr vi faccio una piccola introduzione a quello che è appunto il mondo di Fiverr. Fiverr praticamente è appunto un sito, una piattaforma per freelancer dove voi potete tranquillamente postare le vostre competenze e richiedere e farvi appunto notare da quelli che sono brand, quelli che sono privati, che ricercano le vostre stesse competenze e che loro ovviamente non sanno fare. Ad esempio il primo metodo che vi vado a segnalare, so che sembrerà assurdo, ma è rimuovere lo sfondo delle foto. Ok, chi è che non conosce remove background e canva avete ragione, però essenzialmente c'è mercato, c'è richiesta, ci sono persone, anche youtuber, che richiedono esattamente questo tipo di lavoro e anche non è mal pagato fondamentalmente il tempo che voi dovrete spendere appresso a questo lavoro, anche perché rimuovere una sfonda appunto ripeto di una foto, basta prenderla, metterla appunto sull'applicazione o remove background oppure canva e ci sono le opzioni per poter appunto ritogliere il background delle foto. Attenzione perché ci sono tre livelli che vengono richiesti in questo tipo di settore di lavoro, cioè livello principiante, intermedio e avanzato. Nel livello avanzato ci sono delle conoscenze in cui si viene richiesta una precisione nel rimuovere il background un pochettino più alta. Vi sconsiglio, anche se è quello meglio pagato, di accettare lavori del genere se non siete capaci con Photoshop. Infatti per quest'ultimo, quindi per lo scontornamento e per la rimozione dello sfondo di quest'ultimo livello, principalmente si utilizza Photoshop, o comunque si ha dei programmi specializzati per poter anche essere migliori nel contorno delle persone o degli oggetti o delle figure all'interno di una foto. Quarto metodo per poter guadagnare online sono le traduzioni. Sì, ci sono tantissimi siti, anche su Fiverr appunto ci sono queste richieste da parte di aziende nella traduzione di alcuni testi. Voi direte, ma che ci vuole? Basta che prendi, la metti su Google Traduttore e il gioco è fatto. No, esattamente sbagliato. Se un'azienda vi chiede di dover mettere, diciamo appunto, la traduzione, di dover tradurre il proprio testo in una lingua particolare che possa essere anche l'italiano, come potrebbe essere l'inglese, potrebbe essere lo spagnolo, il cinese, il francese e chi più ne ha più ne metta, è perché vuole che effettivamente il testo, quando venga letto, sia nella lingua madre. Google Traduttore traduce bene, per carità, ma la maggior parte delle volte traduce troppo la lettera. Invece chi chiede appunto questo tipo di testi e vuole la traduzione reale, cioè nel senso che voi, nel leggere appunto il testo, sappiate effettivamente comprendere il testo e dare una vostra traduzione reale. Niente, fondamentalmente ci sarà veramente tantissima richiesta, soprattutto c'è tanta richiesta in quello che è il mondo dei manga. I manga molto spesso vengono appunto, come sapete, tradotti in varie lingue da alcuni siti e c'è veramente tantissima richiesta, anche in questo settore, nella ricerca appunto di persone che sanno il giapponese o il cinese, o anche il coreano, anche se lì, diciamo, i manga si chiamano in maniera un pochettino diversa. Non mi ammazzate voi che amate questo mondo, per quello che sto dicendo. Sappiate comunque sia che anche lì c'è molta richiesta appunto di traduzioni. Quinto metodo per poter guadagnare online, sempre su Fiverr, e sono le lezioni in italiano per stranieri. C'è veramente tantissima richiesta di lezioni in italiano per stranieri, che appunto vengono in Italia e vogliono imparare l'italiano, vogliono vivere in Italia, e ci stanno veramente tantissime persone che richiedono questo tipo di lezioni. Voi potete fare appunto dei videocorsi, che poi vendete a seconda del pacchetto principiante, intermedio, avanzato, a seconda anche del pubblico che ti viene richiesto, e potete scegliere la fascia di prezzo appunto da poter mettere. Molto facile, molto semplice, e soprattutto vi assicuro veramente molto remunerativo. Ovviamente anche qui bisogna avere una minima base di inglese, anche perché è la lingua più parlata in assoluto. E insieme a quella, ovviamente conoscere molto bene l'italiano, perché non è che potete insegnare l'italiano perché sapete parlare italiano. Sesto metodo per poter guadagnare online. Il sesto metodo che vi do oggi è praticamente le video lezioni di musica. Avete conoscenze di uno strumento, sapete suonare uno strumento, avete la passione, non serve che avete fatto più forza il conservatorio, però l'importante è che sapete suonare quello strumento. Mettete anche lì videocorsi o audiocorsi, comunque sia, in cui insegnate a suonare quello strumento. È molto importante, secondo me, più il videocorso che l'audiocorso, anche se è possibile fare entrambi. Avete sicuramente molto più successo facendo il videocorso, anche perché vedendovi e mostrando appunto allo spettatore in che modo magari poter posizionare le mani sulla tastiera o in che modo poter posizionare le mani sulle corde della chitarra o in che modo mettere le dita sul flauto, sullo xilofono, cioè le mani sullo xilofono, eccetera, eccetera. Ecco, lì secondo me entrate anche meglio e riuscite anche a colpire molto di più lo spettatore e quindi riuscite a assicurarvi che le persone tornino e che soprattutto acquistino i vostri pacchetti. I vostri pacchetti dovranno essere un minimo introduttivi, quindi ci dovrà essere una parte gratuita che lo spettatore può guardare per capire se effettivamente vuole poter dargli quello che occorre e dopodiché se vuole continuare appunto con il vostro corso dovrà per forza acquistarlo. Settimo e ultimo metodo per poter guadagnare online ed è quello di vendere foto sui siti. Siete appassionati di fotografia, cioè chiunque ad oggi ormai ha uno smartphone, non serve più avere appunto una macchinetta fotografica per poter fare delle belle foto. Io vi lascio qui non un solo sito per poter appunto vendere le vostre foto, ma vi lascerò qui una lista di siti dove appunto potete registrarvi e vendere le vostre foto sia a livello amatoriale sia a livello professionistico. Ci sono persone che riescono a farci anche 2.000-3.000 euro al mese su questi siti e ci sono persone ovviamente che non ci fanno neanche un euro, cioè nel senso c'è sempre il rovescio della medaglia. Ovviamente le vostre foto devono essere fatte in un certo tipo, devono essere coerenti con il vostro stile, cioè dovete anche lì riuscire a creare la vostra nicchia e riuscire a trovare quello che è il settore in cui chiedete, anche perché su questi siti ci sono veramente tantissime aziende che richiedono foto specifiche magari di oggetti, prodotti, paesaggi, animali, quindi è una cosa molto buona. Oltretutto alcuni di questi siti indicano delle sfide giornaliere, settimanali, mensili in cui danno come compito il dover fare delle foto a un animale, un oggetto specifico, un paesaggio, una persona, una situazione specifica e la migliore tra quelle verrà poi esposta e venduta e voi otterrete il ricavo. Queste qua sono un altro altro, queste sfide servono molto anche per farvi conoscere su queste applicazioni, quindi io vi consiglio se vi doveste segnare su questi siti di partecipare appunto a queste sfide. E niente ragazzi, queste qua erano appunto i 7 metodi per poter guadagnare e sì c'è il piccolo extra. Il piccolo extra è che ovviamente, ed è anche il mio punto di vista, tanti vengono e vi dicono ci sono questi metodi per poter guadagnare online facili perché è molto semplice, perché non servono soldi, non serve investimento, non serve niente, va bene per chiunque, chi comunque può farlo. Sì, ovviamente chiunque può farlo perché le possibilità dell'internet sono infinite, ma è anche vero che servono delle competenze. Perché facciamo un piccolo esempio. Se io sono una persona che viene a chiedere appunto a te che stai facendo videocorsi di musica, ti venga a chiedere un aiuto e quindi mi interessa il tuo pacchetto base perché ho visto il tuo livello di, diciamo, la tua introduzione e mi interessa, però il tuo, diciamo, corso base non mi insegna niente, non riesco a suonare poi effettivamente lo strumento, io non solo ti darò una recensione negativa sul tuo video, ma allo stesso tempo, ovviamente non perché tu non abbia fatto bene il corso, ma magari perché tu non sai spiegarlo, perché tu non hai delle vere e proprie competenze, magari non hai neanche lo strumento con te e come sto facendo adesso io parli semplicemente del videocorso e di come si suona uno strumento. Cioè è ovvio che io il tuo videocorso di musica te lo boccio, ti metto ovviamente nella recensione negativa e comunque sia molte meno persone verranno sicuramente a comprartelo perché hai delle recensioni negative. Non è ovviamente il massimo, questo vale in tutti gli ambiti, vale soprattutto negli ambiti traduzione dei testi, oppure l'insegnamento dell'italiano per le persone straniere, cioè bisogna avere delle reali competenze, per quanto alcune cose possano sembrare molto semplici ed effettivamente alla portata di tutte, la base è avere delle competenze ed essere sinceri. Quindi su questi metodi e su tantissimi altri metodi che vengono costantemente segnalati e consigliati da altri miei colleghi, voi fateci un pensierino anche perché effettivamente c'è la possibilità di poter guadagnare qualcosina. Ricordatevi sempre che c'è un regime fiscale da dover tenere bene conto, quindi se superate i 5.000 euro di guadagno in un anno facendo una di queste attività non potete più esimervi da avere partita IVA e dal pagare le tasse. Cioè le tasse vanno pagate comunque, le dovete pagare a prescindere, sia che avete guadagnato 10 euro sia che dovete guadagnarne 50.000, quelle le dovete pagare comunque. Bene, il video finisce qui ragazzi, spero di esservi stato utile, di essere stato appunto come sempre chiaro e trasparente con voi, rimarito anche appunto questi 7 metodi per poter guadagnare online. Non dimenticatevi come sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace e di lasciare un commento, soprattutto perché se alcuni metodi che io non conosco, magari non ho detto in questo video perché ne conosco tantissimi, però non è che potevo fare 100 metodi per poter guadagnare online, o forse potrebbe essere un'idea per un prossimo video. Bene, voi iscrivetevi sotto nei commenti e ovviamente aiutete le persone che guardano questo video per poter appunto trovare una piccola remunerazione per poter andare avanti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, buona giornata!